Sì, sono Filippo e voglio raccontarvi dell'Epifania e del servizio speciale. La tradizione del servizio di famiglia di patria è una tradizione del servizio di famiglia di famiglia di famiglia. In Italia ci celebriamo l'Epifania, una festa dedicata all'arrivo dei tre reni in Varese. Abbiamo un servizio speciale, il servizio di famiglia di famiglia, per omeggiare il momento dei tre reni. È un servizio di famiglia di famiglia di famiglia di famiglia di famiglia di famiglia di famiglia. Questo servizio è importante perché rappresenta la tradizione della Nord Italia e è anche un servizio per il nuovo anno. Questa tradizione trova le sue rotezioni nel passaggio di Barbarossa dalla città di Varese, che era conosceva la città di famiglia di famiglia di famiglia di famiglia di famiglia. Secondo la legge, le reliquie delle magie sono stati da Federico Barbarossa, 1164 in the church of santo storgio in milan and on their way to germany where they were donated to the archbishop of colonia they stopped in varese the journey of their remains through italy france switzerland and germany left trace even in the names to the three kings the three crowns and to the star are frequent names for inns and taverns the shape of the typical mouth of the magi even if according to the tradition these traveled on their journeys with horse camel and elephant symbol of the continent the continents europe africa and asia presently in memory of this space passage the past rich chef of varese wanted to create a particle dessert giving life to any anico and deeply felt tradition the basic ingredient of this recipe are simple butter flow and water then there is the granulated sugar to make the caramelized crust and possibly chocolate or cream for the feelings camels are only available for a few days a year from the beginning of january unity epiphany this podcast is about epiphany epiphany is a typical italian tradition and comes from ancient greek and means it is celebrated on 6 january every year which commemorates the visit of the three kings to jesus in bethlehem the bephana is a particular field linked to christmas and she is a good and poor witch but dissipate tizzy she is always very generous there are different customs for example in many italian cities it is customary to burn a huge puppet with the appearance of the witch another tradition is to hang the socks by the fireplace for the witch to fill them with chocolate and sweets but if during the year you didn't behave will she will punish you by bringing you on the call once the children have found the sweets they enjoy enchanting and eating them in italy this sympathetic rhythm about the bephana is very widespread la bephana it's cold here we are waiting for the snow bye bye we are giovanna and binta and we'd like to tell you two poems about epiphany and the bephana is tornata la bephana is tornata la bephana a cavallo di una scopa vola senza far rumore nella notte nera nera sulle spalle ha tanti sacchi e li posa sui cammini tira fuori sorridenti regali per i bambini bambole e tremini giostre e orsocchiotti dischi e gambiolini dolci e biscottini ma più bello ancora essa sa donare una grande gioia che non si può scordare la bephana da una stella la bephana è una nonna che sorveglia tutti i bimbi perché giochino e sorridono siano sereni e salterelli la bephana viene di notte e porta tutte cose belle ai più tristi un sorriso a chi è solo compagnia nella saccazza che vola nel cielo non ci sono caramelle ma porti baci delle stelle i baci delle nonne che private dei nipoti li proteggono da lontano perché giochino e sorridono stanno sireni e salterelli